Per circa un mese non abbiamo avuto nuovi contagi. Oggi purtroppo dobbiamo prendere atto dal comunicato della ASL RM5 che c'è un nuovo caso di positivo al coronavirus sul territorio comunale. Questo intanto porta a 49 i casi complessivi e poi ci riporta un po' anche con i piedi a terra, perché mentre leggiamo e vediamo tutti i giorni che nel mondo intero e soprattutto in alcuni continenti i contagi crescono in maniera esponenziale, noi pur dovendo constatare quotidianamente che difficilmente si riesce a scendere al di sotto dei 100 casi di nuovi contagi, anzi negli ultimi giorni si è tornati a superare i 300 casi al giorno, ecco oggi dobbiamo prendere atto e tornando con i piedi a terra constatare che il virus circola ancora anche nel nostro territorio. Questo deve servirci da ulteriore sprone a far sì che i nostri comportamenti siano sempre improntati a criteri di massima responsabilità. Mi riferisco in modo particolare agli assembramenti ed in modo più particolare ancora agli assembramenti giovanili che nelle aree, perché anche noi attivoli abbiamo delle aree di movida, destano grande preoccupazione, perché non si fa neanche uso di dispositivi di protezione, delle mascherine, non si tiene in alcun conto dei suggerimenti, degli inviti a garantire comunque il distanziamento tra persona e persona. Ragazze e ragazzi, mi rivolgo in particolare a voi, abbiate per certo che il virus c'è ancora, non riguarda soltanto le persone anziane e quindi prestate la massima attenzione. Vi prego veramente di tenere in considerazione questo mio appello, questo mio invito, che vi rivolgo come un padre può fare con i propri figli e con le proprie figli. Prestate attenzione, è soprattutto nel vostro interesse questo. Grazie e buonasera.